Ben ritrovati sul canale Il Vino Alcalice, il vino con semplicità ma nel modo giusto. Io sono Gigi, sono Sommelier e in questo video vedremo le tipologie di spumanti in base agli zuccheri che contengono, per fare bella figura ma senza esagerare. Quasi sempre sull'etichetta degli spumanti, sia che siano prodotti con metodo classico o che derivano dal metodo Charmant, troviamo la dicitura Brut, Dry, Extra Dry e così via. Tale termine ci offre una informazione sulla quantità di zuccheri che è contenuta all'interno del prodotto. Semplificando ci dice se il prodotto è più tendente al secco, cioè all'assenza di residuo zuccherino o al dolce. Vediamo uno a uno i termini e la scala partendo dal residuo zuccherino più basso per andare pian piano a quello più elevato. In ogni caso nella descrizione sotto a questo video trovate tutti i vari passaggi e i dati specifici. Partiamo dal Padoze o Brut Nature. Vuol dire che il produttore non ha aggiunto zuccheri né nel liquore di rabocco e nemmeno in fasi precedenti. Il Padoze o Brut Nature ha generalmente un residuo zuccherino di 3 grammi litro al massimo, di solito anche molto meno. Abbiamo poi l'Extra Brut. L'Extra Brut ha un residuo zuccherino che va dai 0 ai 6 grammi litro. Per arrivare al Brut che ha invece un residuo zuccherino che va dai 6 ai 12 grammi litro. L'Extra Dry inizia a far sentire un po' il dolce quando si mette in bocca il vino con un residuo zuccherino tra i 12 e i 17 grammi litro. Il dolce si sente un po' più marcato con il Sec o Dry che ha un residuo che va dai 17 ai 32 grammi litro. Arriviamo poi dai 50 grammi litro di zucchero in su dove abbiamo il vero e proprio dolce. Considerate che lo spumante dolce per antonomasia, il nostro fiori d'arancio veneto, moscato dolce, ha 50 grammi litro. Ma tutto ciò a cosa ci serve praticamente? Beh, sostanzialmente ci serve prima ancora di aprire la bottiglia, nel momento in cui la andiamo a scegliere in negozio, a scegliere il prodotto che piace più a noi o che piace ai nostri ospiti. Ma soprattutto ci serve anche per scegliere il prodotto che si abbina meglio al cibo che vogliamo servire e all'occasione che ci si presenta. Ma facciamo alcuni esempi, non sono esaustivi, però ci danno l'idea. Uno spumante brut o extra brut è ideale per il salato, specialmente se parliamo di antipasti o primi piatti leggeri o anche carni bianche non troppo condite. Abbiamo invece poi lo spumante brut e la maggioranza dei metodi classici sono brut, che oltre ad essere utilizzato con gli antipasti o con i primi piatti leggeri, dà il suo meglio con formaggi molli o con delle buone mozzarella di latte vaccino o di bufala. Degli champagne con le mozzarella fresche fanno davvero una gran bella figura e lasciano in bocca un gusto estremamente elegante. Passiamo poi all'extra dry e al dry e qui possiamo sperimentare l'abbinamento con dei crostacei, oltre a poterci giocare anche degli antipasti di pesce. Gli spumanti dolci infine possono essere accompagnati a dei dolci sicuramente, ma possono anche essere osati in speciali abbinamenti con alcuni formaggi, ma di questo avremo modo di parlarne. Come sempre se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Alla salute!